Ci sarà anche Sandra Savino, coordinatrice regionale del partito all'incontro fra il gruppo consigliare regionale di Forza Italia e il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale azzurro per gli enti locali. L'incontro è in programma lunedì pomeriggio alle 15 in sala tessitori del Consiglio regionale. Gasparri sarà infatti a Vasovizza al mattino per la commemorazione del giorno del ricordo. Il capogruppo forzista in Consiglio regionale, Giuseppe Niccoli, nell'annunciare l'incontro rende noto che durante il summit si discuterà di quanto realizzato finora dall'esecutivo regionale di centrodestra su quello che aspetta la maggioranza e la giunta nel 2020 e di un programma di massima fino alla fine della legislatura. Enti locali, sanità, imprese e infrastrutture saranno i temi principali all'ordine del giorno. Niccoli concluse sostenendo come la compattezza e la propositività della coalizione che governa il Friuli Venezia Giulia rappresenti un modello per le prossime elezioni nazionali che Forza Italia auspica avvengano in tempi brevi per liberarsi, come dice Niccoli, dal governo giallorosso. In sostanza dunque una sorta di stato dell'arte del partito in regione, ma anche una sorta di chiamata alle armi che, nelle intenzioni, dovrebbe servire per compattare la pattuglia azzurra. E chissà, per galvanizzare le truppe forziste in attesa di una guerra che già si annuncia lunga, è contrassegnata da battaglie campali su tutte per le regioni e rinnovi dei consigli comunali l'anno venturo. Sempre che appunto la madre di tutte le battaglie, ovvero le elezioni politiche anticipate, non irrompa prima del previsto, scompaginando tutto.